lo abbatte sul falco casa in montagna di mio nonno un falco giunge a precipizio artiglia un'oca giovane e cerca di volare ma non si alza il peso è troppo mio nonno afferra il falco al collo per staccarlo dalla preda ma il falco non la molla prende un grosso ramo e lo abbatte sul falco che non molla la presa e cerca ancora di volare mio nonno picchia più forte il falco muore senza mollare la preda quale esperienza ha fatto quel falco commento il falco è stato solo un sensore dell'anima gruppo a cui appartiene il predatore la sua esperienza è andata all'anima gruppo attraverso il suo sensore